Non posso farti vedere una cosa? Certo. Mi serve il tuo cellulare. Qualche giorno fa qualcuno mi ha scaricato un'app. Si chiama YouDie. Ma non è un'applicazione come tutte le altre. Quest'applicazione ti logora, ti distrugge, ti consuma. E alla fine ti uccide. Ok, si è aperto la fotocamera. Non so più cosa credere. Dovrebbe essere un gioco però quello che vedo nell'app lo vedo anche nella realtà. Ho trovato qualcosa. Ci sono dei riferimenti ad alcuni rapporti della polizia in cui alcune persone farneticavano di vedere morti attraverso un'applicazione del telefono. Lecola. 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 You can see them. Leo è reale, io ci credo. Scarita da me. Guadagni altre 24 ore, giusto? Ma tu pensi davvero che sia un gioco? Ho paura che tua sorella sia psicotica. Bravo. Va bene? O Whoa levantare la Roma, il pote di me. Non, percarezzaUnis. Vole,